... Incidente nella giornata di mercoledì 30 agosto, poco dopo mezzogiorno, sulla provinciale 460 all'altezza di Frazione Vesignano a Rivarolo Canavese. Un uomo di 79 anni, residente a Quornier, ha perso il controllo dello scooter Honda Vision che stava guidando ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, il soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dal pensionato, potrebbe aver frenato per evitare una vettura, ma sono in corso gli accertamenti della polizia locale. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse scoriazioni e qualche probabile fattura. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario per permettere ai soccorritori di operare.